Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto Marco Ronconi, professore di teologia all'Istituto Leoniano di Anagni. Lunedì è giorno per riascoltare le parole dette dal Papa all'Angelus a commento del Vangelo di Marco. L'episodio è quello di Gesù con i suoi in barca sul lago di Tiberiade quando le acque sono in tempesta. Ma sentiamo il Papa. Oggi il Vangelo ci presenta Gesù sulla barca con i disceppoli nel lago di Tiberiade. Arriva all'improvviso una forte tempesta e la barca rischia di affrontare. Gesù che stava dormendo si sveglia, minaccia il vento e tutto ritorna alla calma. Ma davvero non si sveglia, lo svegliano. Con tanta paura era un discipolo che lo svegliano Gesù. La sera prima era stato Gesù stesso a dire ai discepoli di salire in barca e attraversare il lago. Loro erano sperti, erano pescatori e quello era il loro ambiente di vita, ma una tempesta poteva metterli in difficoltà. Sembra che Gesù voglia metterli alla prova. Comunque non li lascia soli. Sta con loro sulla barca, tranquillo. Anzi, addirittura dorme. E quando si scatena la bufera con la sua presenza, li rassicura, li incoraggia, li incita ad avere più fede e li accompagna oltre il pericolo. Possiamo fare questa domanda. Perché Gesù si comporta così? Per rafforzare la fede dei discepoli e per renderle più coraggiosi. Essi, i discepoli, infatti, escono da questa esperienza più consapevoli della potenza di Gesù e della sua presenza in mezzo a loro. E dunque più forti e più fronti a affrontare gli ostacoli e difficoltà, compressa la paura di avventurarsi e annunciare il Vangelo. Sembra che Gesù, dice il Papa, voglia metterli alla prova. Io vorrei capire se sembra che voglia metterli alla prova o li mette alla prova, visto che poi il risultato è quello di rafforzare la loro fede. Te lo domando perché questa espressione mi rimanda un po' alla preghiera del Padre Nostro, alla riformulazione voluta dallo stesso Papa Francesco. Per cui non diciamo più non ci indurre in tentazione, perché riteniamo che il Padre Buono non ci metta alla prova, ma non abbandonarci alla tentazione. Allora che fa Gesù sulla barca? Allora, intanto la parola giusta è sembra, nel senso che in questo racconto, il Papa lo lascia intendere bene nella spiegazione, c'è tutto un gioco tra Gesù com'è e come sembra. Quando sale sulla barca c'è un'espressione che c'ha soltanto il Vangelo secondo Marco, che dice che gli Apostoli lo prendono sulla barca così come egli era. E quel così come egli era, se si ha presente quello che è appena successo fino a quel punto, è come la frase che diciamo quando abbiamo una persona a cui vogliamo molto bene, che ci piacerebbe tanto che fosse fatta in un altro modo, però sai com'è fatto, ce lo teniamo così. Ed è come se gli Apostoli, perché nel capitolo precedente Gesù aveva parlato in parabola e non aveva capito niente a nessuno, aveva fatto delle cose e era stato frainteso, aveva trattato male gli Apostoli, a un certo punto gli aveva anche, gli aveva regalato una spiegazione privata di una parabola che però non gli aveva tanto convinti. E dopo tutte queste cose di un Messia che si aspettava in un certo modo e che si presenta non come sembra, lo prendono così come egli è. Se lo caricano così come è sulla barca gli succede quel pandemonio che comincia la tempesta e stanno per affogare e gli piglia una grande paura. Allora, se per mettere alla prova intendiamo il gusto un po' sadico di vedere se qualcuno può cadere dentro un buco o dentro una trappola, no. Gesù non gli mette alla prova in questo senso e Dio non ci mette alla prova. Se a volte però sembra che lo faccia, probabilmente non lo fa, però ha un atteggiamento molto simile a questo, non tanto per l'intenzione quanto per il risultato. È vero che mettere alla prova qualcosa significa anche temprarlo ed è vero che gli Apostoli n'escono più temprati, anche se il brano finisce che loro non sono tanto più temprati perché hanno ancora paura, solo che la paura non è sulla tempesta ma la paura è ma chi è costui a cui il vento obbedisce? E dicono questa cosa con timore, quindi passano da una paura a un'altra paura, il che significa che la fede non è il contrario della paura. Però dentro quella che tu chiami paura, davanti a costui cui il vento obbedisce, c'è quella che Papa Francesco ha chiamato la consapevolezza della potenza di Gesù. Ora, che è il risultato un po' di questa esperienza? Escono consapevoli, magari spaventati persino della potenza di Gesù, che facendo il parallelo con le tempeste esistenziali che possono accadere a noi, non mi pare esattamente la stessa esperienza, nel senso che noi dentro le difficoltà, molto raramente quando accade, credo che li chiamiamo miracoli, avviene che la tempesta viene sedata. L'esperienza che facciamo più spesso, nella migliore delle ipotesi, è quella di sentire la compagnia, la forza di Gesù con noi, ma la tempesta rimane quella che è. E allora che cos'è per noi la consapevolezza della potenza di Gesù, che è qualcosa di diverso rispetto a quelli che erano sulla barca con le acque in tempeste? Guarda, per risponderti devo fare una piccola premessa. Il Vangelo di Marco funziona come un dado da brodo, cioè bisogna sempre aggiungere un po' d'acqua, nel senso che le frasi sono brevissime, sinteticissime. Ad esempio, non ci viene detto niente di quello che sentono gli apostoli in quel momento, anzi, quello che gli apostoli sentono in quel momento è, ma non ti importa niente di quello che ti sta succedendo. Negli altri Vangeli in cui c'è lo stesso episodio non gli fanno questa domanda, gli chiedono salvaci, sono molto più concreti. Qui è quasi come se gli apostoli fossero più spaventati dal fatto che Gesù dorme della tempesta stessa o del loro pericolo. E questo è un primo elemento importante. Un secondo elemento importante è che, appunto, loro hanno più consapevolezza di chi è Cristo per l'effetto finale, che la tempesta si è sedata per una semplice sua parola. E nella Bibbia, soprattutto nella Bibbia, nei libri delle scritture ebraiche, una sola realtà dice e le cose sono, ed è Dio. Per cui quello che loro fanno esperienza non è tanto di un Dio che sta loro vicino, ma fanno esperienza di Dio così come Egli è. E Dio, così come Egli è, è qualcuno che seda le tempeste nonostante le nostre agitazioni, nonostante le nostre preoccupazioni. Non c'è un rapporto di stretta causa-effetto, cioè gli apostoli si comportano in un certo modo e allora Dio reagisce. Quello che succede in questo testo è che Dio si mostra per quello che è, cioè colui che quando parla le cose succedono. La loro consapevolezza non è sul fatto che Dio li ama, ma sul fatto che Dio è Dio. È una leggera differenza, non so se riesco a spiegarmi. Penso che sia stato chiarissimo. Torniamo alle parole di Papa Francesco. E anche con noi. Gesù fa lo stesso, in particolare nell'Eucaristia. Ci riunisce attorno a sé, ci dona la sua parola, ci nutre con il suo corpo e il suo sangue e poi ci invita a prendere il largo per trasmettere a tutti quello che abbiamo sentito e condividere con tutti quello che abbiamo ricevuto nella vita di ogni giorno, anche quanto è difficile. Gesù non ci risparmia le contrarietà, ma senza abbandonarci ci aiuta a affrontarle, ci fa coraggiosi. Così anche noi, superandole con il suo aiuto, impariamo sempre più a stringersi a Lui, a fidarci della sua potenza, che va ben oltre le nostre capacità, a superare le incertezze e l'esitazione, le chiusure, i preconcetti, e questo farlo con coraggio e grandessa di cuore per dire a tutti che il Regno del Cielo è presente. È qui, e che con Gesù al nostro fianco possiamo farlo crescere insieme al di là di ogni barriera. Chiediamoci allora, nei momenti di prova, so fare memoria delle volte in cui ho sperimentato nella mia vita la presenza e l'aiuto del Signore? Pensiamo. Quando arriva qualche tempesta, mi lascio travolgere dall'agitazione, oppure mi stringo a Lui, e mi stringo a Lui per ritrovare calma, per ritrovare pace nella preghiera, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nell'adorazione e nella condivisione fraterna della fede. In che senso regge il paragone tra l'esperienza che fanno i discepoli sulla barca e sul vedere Gesù che seda la tempesta con l'esperienza che facciamo noi di Gesù nell'Eucaristia? Allora, Gesù sede la tempesta in un momento in cui è notte, in cui i pescatori non vedono dove stanno andando, in un momento in cui il controllo che noi abbiamo a disposizione su quello che ci sta succedendo è minimo. Allora, forse esagero un po' nella contrapposizione, ma è come se ci dicesse che in alcuni momenti bisogna lasciar fare a Dio. Quello che noi facciamo, può essere molto fastidioso da pensare, è irrilevante. O tutt'al più può sembrare irrilevante, perché c'è un altro dettaglio interessante che gli apostoli svegliano Gesù e Gesù sede la tempesta, ma l'ho letto in un Alexio di Stella Mora, non ci ho mai fatto in questo caso, il testo dice che c'erano delle altre barche intorno. E allora anche semplicemente chiamare in causa Dio può sembrare una cosa da poco o forse è una cosa da tanto per quelli che non sanno nemmeno che Dio esiste, perché di quella bonaccia ne godranno anche le barche che non avevano Gesù a bordo. Però tornando a quello che mi dicevi, è come se dicesse che in alcuni momenti ci sono delle tempeste, ci sono delle notti in cui l'unica cosa che possiamo fare è ricordarci che Dio fa Dio, che noi non possiamo fare Dio al suo posto. Ed è una cosa molto dura da mandare giù, perché poi ci sono degli altri giorni in cui cinque pani e due pesci, in cui una parola scambiata al pozzo, in cui un bicchiere d'acqua faranno la differenza, ma saranno quei momenti in cui ci è chiesto di fare la nostra parte. In momenti come alcune notti che insomma chi ha più di vent'anni penso ben presente, l'unica cosa che possiamo fare è ricordarci che Dio fa Dio e farci coraggio con la memoria di quello che è successo. Allora non è un caso che lui citi l'Eucaristia, perché l'Eucaristia ad esempio, in questa epoca storica siamo molto abituati a farla, la facciamo secondo me anche un po' troppo spesso, ma lasciamo perdere. Una volta l'Eucaristia era il pane che veniva dato soprattutto ai moribondi per compiere l'ultimo gesto di coraggio assoluto, di lasciar fare a Dio, di lasciarsi affidare completamente a Dio e trovare il coraggio di morire, che è forse il gesto di coraggio più grande che ci sarà chiesto su questa vita, smettere di lottare e accettare di lasciar fare a Lui. Allora in questo senso tutte le volte che ci avviciniamo all'Eucaristia è come se ci venisse dato quel pane che non a caso viene consacrato in un gesto di memoria nella notte in cui fu tradito e gli prese il pane e quindi quella memoria diventa il punto di partenza di quel gesto e quel pane che riceviamo e quel vino che condividiamo ci vengono dati proprio per ricordarci che ci saranno dei momenti in cui quello che potremo fare sarà ricordarci che Dio fa Dio e quel gusto, quel sapore, quel piacere ci possono dare il coraggio che in questo caso non è il contrario della paura, ma è la capacità di ricordarsi che le paure e i timori fanno parte della vita, la fede è il più importante. Ti posso chiedere un racconto personale sulla memoria che in un momento appunto di tempesta, memoria per usare le tue parole che Dio fa Dio, che Dio c'è, ti ha aiutato a affrontare una tempesta. Guarda, senza scendere troppi particolari, più di una volta ad esempio quando succede di dover imparare la misericordia o avere il coraggio di chiedere misericordia a qualcuno con cui hai avuto una storia importante, con cui hai avuto già molti momenti decisivi nella tua vita. Un punto di partenza fondamentale non è tanto decidere come fare per far sì che la tempesta finisca in quel momento, perché spesso non ne hai il potere, però puoi tenere duro durante la tempesta ricordandoti che cosa di buono c'è stato prima di quella tempesta o se preferisci posso scendere in particolari più facili. Ci sono state delle notti passate in ospedale in cui uno non ha nessuna possibilità di gestire i fantasmi che si scatenano in una notte solitaria in un qualsiasi reparto di ospedale. Se non a volte la compagnia e il coraggio che ti possono dare i ricordi di ciò che c'è stato prima di quella malattia o prima di quella situazione e che è lecito sperare che forse non esattamente così ma con quella forza potranno ricrearsi. Grazie Marco anche di questo ricordo, di questa memoria personale. Veniamo ai fatti di oggi all'incontro del Papa con i soci del Circolo San Pietro. La memoria è organo del futuro a patto che le radici rimangano vive e vegete. Per questo vi incoraggio a trasmettere il vostro patrimonio di valori e di esperanze ai giovani. Che bello pensare a un nono del Circolo San Pietro che trasmette la sua esperienza ai suoi nipoti. Pensate a questa ricchezza di fede vissuta, di carità concreta, di amore ai poveri può passare attraverso i tempi di un anziano. E pensate a quanta energia, a quanta creatività, a quanto slancio può dare un giovane. Il benvenuto ad Alberto Bocchicchio, vicepresidente del Circolo San Pietro. Ho in grembo un robusto volume che si chiama I Romani Pontefici al Circolo San Pietro che raccontano i 150 anni della vostra storia, storia di cui ha parlato anche oggi Papa Francesco. Ce la riassume in un minuto questa storia? Beh, la storia comincia proprio con un gruppo di giovani che si rega da Pionono per offrire i propri servizi. Il Papa li interroga anche scherzosamente e poi gli affida di dare l'aiuto ai poveri con delle cucine. Allora erano cucine semplici, ma dopo si sono sviluppate e noi abbiamo continuato quest'opera per 150 anni ancora oggi. Che cosa fate oggi in particolare? Le cucine economiche dove distribuiamo 40.000 pasti all'anno, sono tre sparse per Roma. E poi abbiamo i gruppi della, come posso dire, della carità, che sono le opere di carità secondo i precetti evangelici. e assistiamo i figli dei bambini ricoverati all'ospedale del bambino Gesù. Abbiamo un gruppo che si occupa dell'assistenza all'ospedale del bambino Gesù. E quindi l'opera del circolo è diramata in varie direzioni, sempre rispetto alla carità, che Papa Francesco chiamò la carezza del Papa, che giunge ai poveri, ai malati, ai sofferenti. E Papa Francesco vi ha chiesto di impegnarvi in particolare anche nel giubileo del prossimo anno? Quest'anno, come nella scia della storia del circolo, i Papi sempre hanno indirizzato le nostre opere, quest'anno il Papa ha suggerito di occuparci del giubileo. e noi abbiamo già preparato, e glielo abbiamo fatto sapere, un aiuto al centro di Roma per i disabili durante tutto il periodo del giubileo. E questa è una delle opere, oltre che rimarranno aperte le nostre cucine, eccetera, tutte le opere funzioneranno ancora, però questo è il dono che faremo al Santo Padre per il giubileo, secondo quello che lui ha indicato proprio stamattina. E soprattutto oggi ha indicato anche l'interesse per i giovani. E il circolo è sempre stato attento a questo. Faccio l'esempio che oggi 40 giovani occupano i posti che occupavano i loro genitori, e che occupano ancora, lavorando insieme, nelle opere di carità del circolo. E quindi c'è pure questa risposta, che noi abbiamo una specie di slogan, diciamo per esempio, ci conoscono a Roma come la minestra del Papa, cioè perché il povero quando va sa che ha da mangiare gratis con un bigliettino dove si è scritto secondo le intenzioni del Santo Padre, cioè che vengono distribuite gratuitamente, il povero non paga mai niente. E siamo noi che qualcuno compra, qualcuno li regaliamo, con la Presidenza che fa questo dono ai parroci e a tutte le parrocchie di Roma. Questo rapporto con i giovani risponde un po' all'esigenza che ha sottolineato oggi Papa Francesco nel suo discorso, vale a dire quello a fronte di una storia così lunga e importante di rinnovare le proprie radici, non restare, lo dice spesso anche della Chiesa, che non deve essere un museo ma qualcosa di vivo. Ci siamo sempre premurati di farlo perché le opere sennò morirebbero, invece hanno bisogno di sempre un rinnovamento. Lei deve pensare che uno dei rinnovamenti è quello delle strutture, perché le leggi sono cambiate, perché le autorità dell'igiene, è tutto cambiato. Per cui ciò che prima era semplice, oggi richiede ancora uno sforzo maggiore di un impegno economico molto forte e noi non prendiamo soldi dalle autorità civili. è tutto volontariato, tutte le nostre quote, le persone che donano di più, quelle che donano di meno e il servizio gratuito che ciascuno di noi fa. Allora grazie e buon lavoro per il prossimo giudileo. Grazie a Marco Roncoli. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre al 17.30. Buona serata.